Ciao ragazzi, bentornati su Berda Radio, oggi una puntata importante, straordinaria, oggi siamo qui con Don Luigi Ciotti, buongiorno, siamo con il responsabile dell'egalità Filcam CGL Sicilia, Giacinto Milazzo, ciao Giacinto, e la referente del presidio Libera Enna, Margherita Lazzara, ciao Margherita, oggi una giornata importantissima, uno degli incontri che si inserisce nel percorso I Cento Passi verso il 21 marzo, la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, Don Luigi, andiamo verso una deriva razzista abbastanza preoccupante, oggi il focus è incentrato sui migranti, quindi cercano di distogliere l'attenzione ai problemi reali del nostro paese, in questo momento lei attraverso le associazioni che porta avanti, in che modo state lavorando? Assumendoci di più la nostra parte di responsabilità di cittadini, c'è da una parte la magistratura, le forze di polizia, gli organi competenti nel contrasto, la criminalità, le mafie, c'è però una responsabilità che abbiamo come cittadini, associazioni, movimenti, gruppi, quindi noi diamo continuità, cerchiamo da 25 anni dare una continuità di impegno per la giustizia sociale, per affermare con forza che lotta alla mafia vuol dire cultura, vuol dire scuola, vuol dire università, vuol dire una rivoluzione culturale che dà la sveglia alle coscienze e dall'altra parte si lotta per la giustizia sociale che comincia dal lavoro, perché il lavoro è fondamentale per la libertà, la dignità delle persone in questo senso. E quindi il nostro è un impegno che è culturale, educativo e sociale, fatto di stima, di riconoscenza, di sostegno, di collaborazione con la magistratura, le forze di polizia, con gli altri organismi. E la mafia com'è cambiata in questi anni? Sono anni di crisi, anni di difficoltà economica, di movimenti politici che hanno modificato la percezione della realtà? Beh, le mafie sono più che mai vive in questo momento, ho detto vive, molto vive, molto vive, nonostante che abbiano preso, soprattutto Cosa Nostra, negli anni dopo le stragi, un sacco di batoste, di interventi, ma si sono rigenerate, quei voti sono stati già riempiti, dopo trent'anni escono i protagonisti del maxiprocesso con le altre trent'anni, stanno uscendo, sono usciti. E allora oggi abbiamo quattro caratteristiche fondamentali parlando del nostro paese. La prima che emerge non c'è regione d'Italia che può oggi più che mai considerarsi esente. E quindi una riflessione pur con colori, accenti diversi, ogni regione ne è in forme diverse coinvolte. Secondo il grande elemento, loro, le mafie si sono fatte più flessibili, più reticolari, costruiscono rete, sempre con però delle forme di unità, di punti di riferimento che sovrasta di riferimento. Terzo, si sono fatti imprenditrici, si sono fatti imprenditrici, quindi hanno una lettura più complessa che deve essere. Però c'è quest'aria grigia, finalmente la si può delineare con forza. Quest'aria grigia in cui dentro ci sono pezzi della massoneria deviata, imprenditori corrotti, trovi funzionari pubblici corrotti, trovi segmenti politici, politici, segmenti politici. Allora, in questa area grigia direttamente non c'è il mafioso, ma siccome lì si possono giocare delle partite di relazioni, di rapporti, di affari, di salotti, si affacciano e riescono a infiltrarsi. E quindi c'è questa linea di demarcazione molto porosa, molto fragile, tra il legale e l'illegale. Questa è la dimensione del nostro Paese. E l'ultimo rapporto della Direzione Nazionale Antimafia di questi giorni è sconcertante, perché fa vedere come la criminalità è fortemente aumentata nel nostro Paese, quella mafiosa. Ma una delle note su cui riflettere è il coinvolgimento di molti minori, di molti minori, di molti minori. Ma questo è anche dettato dalla crisi che c'è in questo momento nel nostro Paese. Non è solo una crisi economica, evidentemente è un grande momento di smarrimento nel nostro Paese. Porto solo tre esempi che sono lampanti. Il primo esempio che è da portare è che il 20% delle persone più ricche nel nostro Paese detengono il 72% della ricchezza nazionale. Un altro 20% medio detiene l'altro 15,6%. Il 60% delle persone più povere detiene il 12% della ricchezza nazionale. Non parliamo di disuguaglianze, parliamo di ingiustizie. Allora qui c'è un problema della povertà, c'è un problema di squilibri da questo punto di vista. È un'economia che ti rapisce, che ti distrugge. Secondo esempio. Noi parliamo della scuola che è fondamentale. Ebbene, la scuola italiana, io oggi sono a tenere scuole, ho visto delle cose meravigliose e quindi non dimentichiamo le cose positive. Però la scuola italiana è agli ultimi posti in Europa per la dispersione scolastica. Noi perdiamo un giovane su tre nei primi cinque anni delle scuole superiori. La nostra università, che ha delle eccellenze, però perde il 40% per strada delle persone. Allora, sono due pilastri, due pilastri, sui quali uno deve fermarsi a riflettere. Le mafie vanno a nozze in tutto questo, evidentemente. Le colgono, ne approfittano. Devo anche dire che mafia e corruzione non sono degli avversari che giocano a viso aperto. No, sono veramente dei parassiti che ti mangiano lì dentro, giorno per giorno, ti soffrono, non permettono l'impresa sana a crescere, creano paura, tensione, fatiche, sofferenze. Sono i veri parassiti dai quali noi dobbiamo difenderci. Poi c'è una politica che io la chiamo la mafia delle parole, perché si fanno grandi annunci, grandi proclami, grandi slogan. Anche qui non voglio generalizzare. C'è la mafia dell'antimafio. Ecco, e allora su tutto questo, veramente noi siamo fortemente in ritardo, fortemente in ritardo. Abbiamo delle contraddizioni, delle incongruenze. Allora c'è un ruolo nostro, anche delle raggi, di tutti, di unire le forze per far emergere le cose positive che danno dignità e speranza che ci sono, per riconoscerle, valorizzarle e sostenerle. Bisogna avere le nostre forze, di cittadini, di associazioni, di movimenti, per portare una denuncia seria, costruttiva, non retorica, per fare prendere coscienza la gente che il cambiamento che noi sogniamo ha bisogno anche di ciascuno di noi. Ma quindi un cambiamento può avvenire? E se può avvenire, in che modo può avvenire? Raccontiamola a chi ci sta guardando in questo momento, soprattutto nelle cose più semplici nelle nostre giornate, nel nostro quotidiano. Bisogna conoscere, la conoscenza è la via maestra del cambiamento. Non si può vivere di informazioni in seconda mano per sentito dire. Ci vuole una conoscenza più vera, perché molti sono i manipolatori della verità o chi pensa di appropriarsene l'approssimazione e l'appropriazione. La verità è importante, fondamentale. Non si può vivere di informazioni e per sentito dire. Luigi, vado io. Vai, vai, vai. Ho una domanda anch'io. Il legale e la giustizia sembrano prendere direzioni sempre più distanti. Secondo te, chi ci guadagna da queste modifiche normative? Io ho visto anche sulla corruzione, sulle vittime, sui beni confiscati, su tutta una serie di meccanismi della giustizia e degli apparati del nostro paese. C'è sempre un punto e virgola, due punti, delle virgole che snaturano in parte la proposta. Facciamo i beni confiscati, sono fatte delle migliorie. Sulla carta c'è il potenziamento con bando pubblico di figure professionali per l'Agenzia Nazionale. Però bisogna che ci siano i soldi. Speriamo che nel mille proroga abbiano inserito i soldi, se no non può partire quello strumento. Ma all'ultimo momento, quando si è fatto una buona riforma, un passo in avanti, si è infilato dentro la vendita all'asta, all'asta, per privati. Noi non diciamo che sono un dogma, che non si possono vendere dei beni, ma è l'estrema razio quella che deve essere messa in atto. Ma il fatto di averci infilato all'ultimo momento l'asta a privati, a privati? No. Noi dobbiamo fare in modo che prima di tutto si tenti tutte le strade per fare in modo che i beni possano essere istituiti alla collettività, all'uso sociale. Perché questo è il vero schiaffo che tu dai alla criminalità, alle mafia, ai corrotti. Vedere che sulle loro proprietà, sui loro terreni, sui loro affari viene restituito alla società, ai cittadini, a cui è stato rubato. Spesso tutto quello è stato conquistato e realizzato facendo del male alla gente, anche la morte di persone che noi ricordiamo il 21 di marzo. Allora abbiamo sempre sé sulla prescrizione. Vedete che discutono, litigano, eccetera. Chi la vuole lunga, chi la vuole corta. E si fa alla fine il compromesso? Io in politica sono convinto che i compromessi bisogna farli. Le mediazioni. Ma le mediazioni si fanno verso l'alto, mai verso il basso. C'è una linea di demarcazione che tu non puoi scendere sotto. Invece noi scendiamo sempre sotto. E sotto sotto si fa sempre il vantaggio di qualcuno, di qualche lobby, di qualche interesse. Devo mediare con quella forza politica, ma in quella forza politica c'è chi c'ha altro. Però siamo di fronte a campagne mediatiche fuorvianti. Siamo di fronte a campagne anche diffamatorie che se la prendono coi più deboli. L'esempio classico è quello dei migranti, che sembrano essere il problema più grande di questo paese. Molto spesso sono invece argomentazioni per distogliere l'attenzione dei problemi reali del paese. L'economia, per esempio. Sì, bene l'impegno di tanti giovani. Questo è un co-working. Il sindacato che appoggia questi giovani. Assolutamente. Ma faccio un esempio banale. Commercio, turismo e appalti, che sono i settori che in questa zona dell'Italia, del paese, sono quei settori dove si potrebbe realmente vedere uno sviluppo per l'occupazione, per la crescita imprenditoriale giovanile. Sono sempre più settori infiltrati dalla malavita organizzata. E gli interventi dello Stato sono blandi, forse sono inesistenti. Anche con l'ultimo sblocca cantieri? E la situazione è peggiorata. Come si fa a non perdere fiducia? Beh, noi non saremo qui attorno a questi microfoni di questa radio se diventiamo delle persone che si rassegnano, che perdono la fiducia. Siamo qui invece per il contrario. Lucidamente per dare coscienza dei problemi come stanno, come giustamente stai dicendo, questi e tanti altri. La lucidità di una lettura, il prendere coscienza, essere ben informati. Poi abbiamo il dovere anche di alzare la voce quando in molti preferiscono un prudente silenzio. Noi di fronte a alcune cose che non vengono fatte, che vengono annunciate, che vengono promesse, che poi non tocchiamo concretamente con mano perché non vengono, non vengono fatte, noi non possiamo stare zitti, ma soprattutto non possiamo stare inerti. Quindi il nostro dovere è proprio quello di essere seri, essere documentati, una denuncia che si fa poi proposta e poi lottare. Lottare. Dove siamo stati nell'arco di questi anni noi? Dove siamo stati mentre venivano scalfiti i diritti delle persone? Dove stanno aumentando le operazioni per i diritti individuali? Noi lottiamo per i diritti sociali, per i diritti umani, non per i diritti individuali di qualche persona. Dove eravamo in questi anni? Certo che molte realtà hanno alzato la voce, si erano messa tutta, ma bisognava che tutti facessero questo con la stessa forza. Adesso abbiamo una situazione che veramente, io ricredo, paradossale, estremamente grave. Perché abbiamo dei numeri di povertà relativa, assoluta, nonostante che si siano accrociate un pochettino le distanze sulla cultura, sulla scuola, sul lavoro. Noi siamo fanalino in Europa, in Europa. Perché gli altri paesi hanno vissuto la crisi economica che c'era, che ha coinvolto l'Europa e il mezzo mondo. Solo che si sono attrezzati diversamente e hanno altre misure rispetto alle nostre. I migranti sono un dono, sono una ricchezza. Sono 258 milioni in questo momento le persone che stanno cercando la terra promessa. Qualcuno pensa che con i nostri provvedimenti, con il nostro alzare la voce, con questi nostri spingere che non partino e non continuano. 258 milioni i dati ufficiali. Allora tre sono le grandi dimensioni che noi dobbiamo avere davanti gli occhi, ma anche nel nostro cuore. Primo, c'è una caduta della democrazia impressionante in molti paesi del mondo e anche l'Europa. La caduta della democrazia. Secondo, ha ragione Papa Francesco quando parla della terza guerra mondiale a pezzi. Sono 30 le guerre in questo momento in atto. E siccome la guerra uno non se la fa da solo, vuol dire che sono decine di paesi che sono coinvolte in guerra. E le fabbriche delle armi, l'aumento delle spese militari, avvenute negli ultimi tre anni in tutto il mondo, in Europa e anche in Italia. Italia ha creato fabbriche, armi. Dall'altra parte, il terzo grande problema di cui noi non possiamo non tenere conto la catastrofe ecologica. Allora ci sono i diritti umani e i diritti della natura. E non dimenticarci che le crisi ambientali, la natura, e le crisi sociali sono le due facce di una stessa medaglia che noi dobbiamo con l'ecologia integrale affrontare. Quarto, corruzione e mafia la troviamo sulla faccia della terra, sulla faccia del pianeta. Anzi, a di là delle altre prevenzioni criminali e mafiose, l'Italia andrà a getta in testa. Ma cosa nostra non viene meno. La troviamo nei paesi più impensati. Hanno soldi, ne hanno tanti. Prendono i consulenti, sono sulle piazze finanziarie, fanno le grandi operazioni di riciclaggio, sono trasnazionali, usano le migliori tecnologie. No, allora, io dico, o c'è uno scatto da parte di tutti, se no diventa, ecco, allora, in tutto questo c'è l'altro grande abbaglio, la legalità, che è diventata l'idolo del nostro paese. E negli anni in cui tutti parliamo di legalità, sbandieramo la legalità, che non è neppure un valore assoluto. Se non l'associamo a quello di giustizia non lo dire. Esatto, è lo strumento per raggiungere un obiettivo che si chiama giustizia. È in mezzo la legalità. E ai nostri ragazzi stiamo attenti, stiamo attenti. Diamogli anche la prospettiva di capire che l'obiettivo resta la giustizia. Perché poi, nelle scuole che fanno delle cose meravigliose, i nostri professori, i maestri, a cui va stima e riconoscenza, ma nella testa di ragazzi, la legalità, la legalità, la legalità, crescono e vedono che nel nome della legalità, come è successo anche in questi ultimi anni, si fanno delle leggi che sono illegali, che calpestano la libertà e l'identità delle persone. Allora c'è confusione. L'obiettivo resta la giustizia. La legalità è lo strumento per raggiungere tutto questo, di leggi giuste. Perché non c'è legalità senza uguaglianza. Facciamo un'ultima domanda, che è quella sui campi liberi, campi di impegno e formazione, che libera è da sempre occupata e impegnata nell'organizzazione di questi campi, che sono destinati sia ai giovanissimi, ma anche agli adulti. Negli ultimi due anni anche la Filcams CGL ha partecipato all'organizzazione di due campi in beni confiscati, in Sicilia e in Calabria. I partecipanti si sono cimentati proprio nel lavoro, nell'impegno, nella formazione, hanno conosciuto la storia del territorio, la storia di quei beni, del mafioso che aveva acquistato quei beni. e quindi un'esperienza anche forte, la testimonianza delle vittime innocenti di mafia portate durante questi campi. Come possiamo rendere più concreto e produttivo questo lavoro? Facendo tre cose fondamentali. La prima è la continuità nel farle. Non sia una parentesi, non sia un'esperienza, ma la continuità, che si allarga, che coinvolge altri, che le rende protagonisti per le ragioni molto puntuali che tu hai sottolineato. Secondo è la condivisione, è noi che vince. Non è opera di navigatori solitari. Ecco, Libra è un'espressione che mette insieme tante espressioni, tante realtà, è un'associazione di associazioni. Poi ci sono anche singoli cittadini, perché è noi che vince. La terza parola da tradurre concretamente è la corresponsabilità. Disposti a collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste, se no dobbiamo diventare senza sconti una spina al fianco se non fanno le cose che devono fare. Ci vuole il coraggio di avere più coraggio, anche a chiamare la politica perché lunedì scorso eravamo davanti al Parlamento, paradossalmente, con centinaia di familiari delle vittime, con le foto delle loro persone care. Io ho provato un senso di vergogna in un paese di civiltà come la nostra che bisogna andare, i parenti, tutti quelli che hanno potuto arrivare, abbiamo organizzato in fretta davanti al Parlamento italiano per chiedere a quella politica che lì si svolge, dentro quelle aule, in quei palazzi, dove si deve mettere in testa le fragilità delle persone, la fatica, le sofferenze. Ecco, andare lì con le foto delle persone care a chiedere non i benefici come c'è scritto adesso, ma i diritti, la dignità, la giusta attenzione, che le direttive europee vengono tradotte anche nel nostro paese, un paese che è ferito da 150 anni dalla presenza criminale mafiosa. Noi siamo andati lì con i familiari delle vittime. Ci sono delle cose che sono state in cielo e in terra. Cioè è paradossale che i familiari delle vittime debbano chiedere i loro diritti e le istituzioni in teoria sono preposte a garantire. No, perché ci sono i diritti. Sì, ma no, allora noi abbiamo tre livelli di vittime. Vittime del dovere, vittime del terrorismo, vittime delle mafie. Poi c'è la criminalità comune, le vittime così. Ma io dico, allora, i vittime del terrorismo hanno una serie di agevolazioni, hanno dei criteri diversi, le vittime di mafia sono già di un secondo livello, le vittime del dovere sono di un terzo livello, ma il dolore nelle famiglie, nei figli, nelle moglie, nei parenti. Non ha i livelli. No, è uno dovere. Io dico, ma è possibile, non solo. Se è una vittima di mafia, ucciso prima del 1961, non viene considerato per legge. Allora, c'è tutti quelli che sono tagliati fuori. Ma ci sono delle assurdità, tutto nel nome dell'economia, che diventa il grande alibi. queste cose si possono fare, queste altre cose non si possono fare. Ci saranno delle priorità essenziali nel nostro paese. Allora, sono due. O i beni confiscati, si riescono a confiscare, a utilizzare, quello che è possibile, alienare quello che non è possibile. Ma abbiamo migliaia che sono fermi e i mafiosi che ce lo dicono, che ci sorridono in faccia. Io ho incontrato nell'altra sicurezza, non dico in quale carcere, su loro richiesta i grandi boss, i personaggi. Sono loro che dicono ma intanto i beni confiscati, no? Che sono i loro. Noi perdiamo lì a fare le cose metali, cose insufficienti. Oggi c'è un bravissimo prefetto, ma bisogna degli strumenti per poter agire. Secondo, i familiari, se noi abbiamo queste lacune, i familiari, gli hanno ammazzato le persone più care, ben riconfiscati i familiari, sono già due esempi concreti di una battaglia che stiamo perdendola. E' 165 anni che parliamo di mafie. E poi, la ritorica delle mafie è grande. E allora gli dico, no, bisognerà che cambiamo anche le coordinate anche dei percorsi educativi. Parliamo sì di legalità, ma saldiamola alla responsabilità, alla dignità, alla giustizia sociale, perché è diventata una parola stratta, una parola educativa che si ferma dentro quei contesti. Deve diventare una parola di vita, una parola di civiltà, lavoro, casa, politica per la famiglia, per i giovani. sennò facciamo solo una marea di discorsi. E' stato più che esaustivo questo incontro, è stato illuminante per ognuno di noi e spero che lo sia anche per ognuno di voi che avete ascoltato e ci state guardando in questo momento. Luigi, Margherita, lanciamo un invito ai nostri ascoltatori a partecipare al 21 marzo quest'anno a Palermo. Sì, deve essere in tanti per dire all'Italia da che parte si sta. In questo momento, oggi più che mai, camminare insieme per le strade di Palermo arrivano da tutte le parti d'Italia. In campagna a migliaia di ragazzi, c'è già una nave di 3.000, stanno cercando un'altra nave, fanno collette, si inventano bancherelle, treni speciali. C'è un'Italia che si sta muovendo. Ma vengono in Sicilia per stima innanzitutto. Perché per me e per tutti noi è importante riconoscere sempre le cose belle, positive che vengono fatte e anche per ricordare il sacrificio di tanti di questa terra che hanno speso la loro vita, l'hanno speso la loro vita nel contrasto alla violenza, ai crimini, all'illegalità, alla corruzione, alle mafie. Veniamo per le cose belle e positive, per farle emergere, per farle conoscere, per abbracciare tutti i familiari delle vittime innocenti di questa terra, ma arrivano familiari da tutte le altre regioni d'Italia, ma arrivano anche dall'estero. Perché oggi libera in tutta Europa, in tutta l'America Latina e pensate che l'anno scorso in Messico la guerra del narcotraffico sono 35.000 omicidi. arriverà anche una donna che gli hanno ucciso un figlio, lei è scesa in strada a chiedere giustizia, gli hanno ammazzato il secondo figlio e lei ha continuato a lottare, gli hanno ammazzato quattro figli, il marito è morto di crepacuore, lei è rimasta sola, è nata un'associazione, sono nata delle associazioni in Messico dove Libera è presente, la Libera Internazionale, in questa rete dell'America Latina, Alas che si sono messi insieme, cercano le fosse comuni, scavano, cercano gli ossicini e con il DNA vogliono cercare le ossa delle persone care e faccio fatica a dirlo, siamo nel 2020 sulla faccia di questo pianeta che c'è tutto questo. barbarie non ha... E non dimentichiamo anche la nostra che abbiamo perfino le nostre mafie sciolte nell'acido anche un bambino, ma non solo. Allora, il messaggio è noi oltre e altrove il 21 marzo, oltre e altrove che è lo slogan. No, no, bisogna venire, bisogna essere in tanti, bisogna abbracciare i familiari che arrivano anche dall'America Latina, piccole rappresentanze perché il biglietto costa, però abbiamo chiesto tanta gente di far colletta e di pagare il biglietto che loro vogliono venire, vogliono camminare insieme. È un problema che ci riguarda veramente tutti. Quindi Palermo 21 marzo 2020. Giornata nazionale con... internazionale. È legge dello Stato oggi e quindi è importante. Giornata della memoria per le vittime innocenti di mafia. E dell'impegno perché il miglior modo di fare memoria è quello di impegnarci di più tutti. Allora, ringraziamo Giacinto Milazzo Margherita Lazzara, ringraziamo Andrea Inzabella che è dietro il vetro, Andrea Loggioco su Instagram, Mario Mangione alla telecamera, ringraziamo il Centro Atlantis che oggi ci ha ospitato, siamo qui con tutte le associazioni del co-working, ringraziamo la CGLDN che ci ospita all'interno di questi locali, ringraziamo Libera e la sua organizzazione, ma soprattutto ringraziamo il simbolo di Libera, Don Luigi Ciotto. No, no, io rappresento un noi, non un io. Nel nostro nome. Il noi nostro. Nel noi. Grazie. Grazie a tutti, Listen to Bed Radio, condividete il video e Don Ciotti, adesso un abbraccio per simboleggiare l'abbraccio del co-working a Libera. Grazie a tutti. Ciao. E Listen to Bed Radio. Ciao. 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 Salut. Ciao. Grazie a tutti.